Inizio! 15 punti a Grifondoro! Hai imparato l'incantesimo Rictus sempre! Non sei stato bravo quando lo sono stato io la prima volta! Ma chi potrebbe viasimarti? Ora dovrai mettere alla prova la tua abilità nell'uso dell'incantesimo Rictus sempre affrontando la mia sfida Rictus sempre! Buona fortuna, Henry! Ah! Ho benvenuto la mia celebre sfida Rictus sempre! Ah, per il potere satana! Per superarla devi recuperare la stella del completamento che si trova sulla vetta di questa fine! Cerca di finire il più in fretta possibile! Se il tempo arriva a zero prima che tu sia riuscito a ottenere la stella del completamento perdi la sfida! Lungo il percorso troverai le stelle della sfida Raccogliendoli aumenterai il tempo a tua disposizione e incrementerai il punteggio! Ah, ti consiglio di non lasciartene sfuggire a nessuna! Cerca di prendere la stella del completamento risparmiando il maggior numero possibile di secondi! Più alto risulterà il punteggio a termine della sfida maggiori saranno i punti che assegnerò alla tua casa! Sei pronto a iniziare? Buona fortuna! Pronti? Via! I granchi di fuoco sono piccole creature sprecevoli che adorano sputare fiamme dal... ...dall... ...contro di te! Per stordirli colpiscili con un incantesimo letto seppra! Potrai quindi utilizzare il flipendo per spingerli da una parte all'altra! Questo indica che un granchio di fuoco posizionato sul simbolo o nelle sue vicinanze sta per agire, Harry! Prova a utilizzare il flipendo per spingere la creatura su questa piastra! seppra! Ri... E' vista... E' vista... Ripendo! 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 E' vista la pirano! ribello ribello e allo mora ahi a cacchio mi sono colpito a cazzo non colpatico ribello e so sembra eendo ribello ibello 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 ahi 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 ah 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 quella è una lumaca arancione gigante evita di toccare queste creature una luciata ah l'acido che secerno non ti brucerà eri fidati so di cosa parlo l'incantesimo riccio sempre le stordirà dopo di che potrai utilizzare il flipendo per spingerle da una parte all'altra rito sempre ripendo ripendo rito sempre ripendo rito sempre Rinti sempre Rinti sempre Isedente sempre Rinti sempre Rinti sempre Rinti sempre Rinti sempre Rivendo Rivendo Amora Rive sempre Ribello Ribello Risusepra Ribello 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 Ghi gnomi sono creature ingorde Cercheranno di rubare le tue gelatine tutti i gusti più uno E le pozioni rigeneratrici Il flipendo li farà cadere all'indietro costringendoli ad abbandonare tutto ciò che hanno rubato Puoi anche raccoglierli e lanciarli Se vuoi liberartene per sempre lanciali in una tana degli gnomi Ecco una tana degli gnomi È da qui che provengono queste creature ed è qui che depositano gli oggetti rubati Lancia gli gnomi dentro questi buchi per liberarti definitivamente di loro Non puoi accedere a questi luoghi Sì Vendo Vendo Alla prossima Alla prossima Alla prossima